Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video voglio mostrarvi la mappa di Ghost of Tsushima completa di tutto. Questo è possibile grazie a un comodo servizio online, un sito web che vi riporto nella descrizione del video e che vi permette di avere sotto controllo tutto in Ghost of Tsushima. Quindi potete scegliere la mappa, perché Tsushima è suddivisa in tre parti, quindi la parte della mappa è interessata. Potete mostrare tutti i punti o nasconderli tutti e selezionare magari solo quello che vi interessa, tipo Aiku, che è praticamente il punto in cui dovete creare una poesia, oppure i templi, o le volpi, i duelli, gli spezza bambù e così via dicendo. Quindi grazie a questa mappa avete la possibilità praticamente di completare Ghost of Tsushima al 100%, perché se vi manca qualcosa, come ad esempio i grilli, potete selezionarli dalla lista e ve li mostra direttamente sulla mappa. Quindi avete la possibilità di trovarli tutti facilmente, potete zoomare, quindi non potete assolutamente sbagliarvi. Quindi grazie a questo sito internet, che vi riporto ovviamente nella descrizione, potete sbloccare tutto, trovare tutto in Ghost of Tsushima.